Ciao a tutti, sono il prof Marco Fumo, benvenuti nel mio canale. In questa clip sono un po' emozionato perché siamo quasi alla fine di questo percorso, però tenevo tantissimo a rinnovare i miei ringraziamenti a tutti voi per avermi seguito e per i messaggi di affetto e stima nei confronti dei concorrenti. In questa clip, dopo sei anni, sono qua in esclusiva solo per voi. Ci vediamo per la finale di The Apprentice. Ciao! Ciao ragazzi, come va? Allora, dopo sei anni si torna a rivederci insieme alla finale. Ringrazio Marco Fumo che è riuscito a mettere insieme questo gruppetto di noi apprendisti e ci fa rivedere le puntate, le ha caricati, le vedo con grande piacere. Niente, che dirvi? Spero alla finale vi faccio emozionare come farà anche Agamè. Dopo sei anni torno a rivivere quell'esperienza. E niente, vi abbraccio tutti. Un caro saluto da Cash One. A voi tutti e buona visione. Grazie, ciao, buona serata. Buongiorno a tutti. Sono Eleonora Smith. Sono uscita nella quarta puntata. Ci tenevo a mandarvi un messaggio per ringraziarvi veramente per il supporto che ci state dando e tutto il vostro interesse nei nostri confronti. Alla fine siamo andati in onda sette anni fa e sapere che ancora adesso c'è tanto interesse per tutti noi, per le nostre vite, per il nostro successo, per le cose che abbiamo fatto, fa veramente piacere a livello umano. Ti ringrazio anche il professor Marco Fumo per tutto il lavoro e l'impegno che ci ha messo per mettere insieme e pubblicizzare ancora di più i video e per l'opportunità di salutarvi come sto facendo adesso. Grazie a tutti. Buona giornata. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Allora innanzitutto grazie al prof Marco Fumo per aver messo questi video che ci ha permesso di rivivere un po' le emozioni del passato. Un saluto a tutti. Buona visione della finale. Anch'io è dal momento in cui è stata messa in onda la prima volta che non la vedo più quindi colgo l'occasione per rivederla e buona visione a tutti. Ciao. 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 . Il treno quando parte parte, volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e Marco per averci creduto, una buona giornata a tutti, grazie, ci vediamo presto, un abbraccio forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.